Dato che è anche una bella giornata, siamo usciti per vedere, insomma, di prendere gli ultimi regali. Per augurare un buon Natale con un piccolo pensiero, però le cose fatte a mano sono sempre un po' più belle, secondo me. E questo è il posto giusto. Ultima domenica prima di Natale, una bella giornata di sole ed è assalto al centro di Treviso per l'acquisto dei regali, ma anche per una semplice passeggiata tra mercatini, negozi aperti, decorazioni e luminarie. La polizia locale stima circa 140.000 presenze nella giornata di oggi, 90.000 ieri, dalla città e dalla provincia, ma anche numerosi turisti da fuori regione e dall'estero, come questa signora dal Brasile. Meravigliosa, sono appassionata, molto linda, accogliore, un po' simpatico, molto, molto buono. Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale. Una città che dimostra sempre più di essere attrattiva per un grande pubblico. Naturalmente essere attrattivi per un grande pubblico significa anche dare una boccata d'ossigeno ai nostri commercianti, ai nostri artigiani che hanno possibilità di far vedere e di vendere i loro prodotti. Molto buona l'affluenza nei negozi e tra le bancarelle. Le tese sono buone e i dati di chiusura di quest'anno altrettanto. Hanno preso qualcosa per fare proprio di regalini, di pensierini, dopo sono tutte cose fatte a mano. No, no, veramente bene, bene, bene. Treviso ha retto all'assalto pre-natalizio, anche se nelle fasce orarie di maggior afflusso, al mattino e al pomeriggio, la viabilità ha subito rallentamenti con code e parcheggi strapieni. Davvero grande soddisfazione. Chiedo un po' di pazienza per coloro che fanno un po' fatica a trovare parcheggi. e gli invito a seguire le indicazioni che li accompagnano in tutti quei parcheggi scambiatori che abbiamo allestito nella primissima periferia della città, che consente di parcheggiare e di raggiungere il centro storico davvero con pochi minuti a piedi. Grande affluenza che ha spinto gli autisti della MoMA a scrivere una lettera a Babbo Natale, recapitata alla società di trasporti e al sindaco, affinché venga rivista la viabilità per i bus in centro storico il sabato e i festivi, per salvaguardare i pedoni. Questa presenza importante di pedoni rende complicato il lavoro degli autisti e del passaggio dei mezzi pubblici. Quindi affronteremo questo tema, come abbiamo sempre fatto, con grande responsabilità e con grande sinergia col presidente Colladon, che da sempre si è dimostrato collaborativo e sapremo trovare le giuste soluzioni per garantire il servizio ai nostri cittadini e allo stesso tempo garantire la sicurezza sia per i pedoni che per gli autisti.